Le belle dell'asfalto sull'isola d'Ischia per il raduno Triangolo d'Oro, un raduno di Ferrari, parliamo con il presidente del Classic Club di Napoli, Cardi Napoli, Cannella. Allora, questo raduno che poi continua, insomma, ogni anno ha un certo successo qui sull'isola. Sì, moltissimo. Sono 17 anni che veniamo sull'isola d'Ischia e ogni anno certamente cerchiamo i posti migliori. Viene al genere da tutta Italia, non solo, ma adesso abbiamo anche degli equipaggi che sono venuti dalla Francia. L'anno precedente sono arrivati dalla Spagna, quindi diciamo che sta diventando un raduno internazionale. I posti sono quelli che sono, quindi sono stupendi. Andiamo nelle migliori strutture come Regine Isabella e quindi diciamo chi viene veramente rimane meravigliato sia dall'organizzazione sia dai posti. Il Classic Car Club so che ha molto successo, è uno dei più importanti, insomma, in questo senso. Sì, diciamo che siamo i primi in Italia come organizzazione, come numero di associati, che siamo circa 8.000, quindi una cifra abbastanza concreta, e diciamo i secondi in Italia. Però il lavoro che noi facciamo, che stiamo crescendo, perché io quando ho preso questo club, sono diventato il presidente, erano solo 92 soci. Pensate, da 92 soci arrivare a 8.000 circa, dal 2000 a oggi siamo registrati con oltre 25.000 soci, sono passati dal nostro club. Immaginate la cosa, il lavoro intenso che noi facciamo. L'amore per queste macchine è bellissimo, e brevemente ce ne vuoi parlare? Ma l'amore sicuramente per queste macchine, per noi appassionati, perché ricordano non solo la storia, ma ci ricordano l'infanzia, perché queste cose erano macchine proibite. Quindi avere una Ferrari è sempre stato il sogno di tutti. Oggi poterla possedere e poterla godere, di guidarla anche in pista, è una cosa che diciamo uno che arriva al massimo livello.